Everybody f***in' losin' a me non 5,50m a pezzo di me guarda come lagga dove stai dannato l'altro? non lo so ma mi sa che era solo lui oppure c'hai dietro ma il primo sangue non dava valigetta di solito ma non l'hai fatto del primo sangue? si ci stava scritto primo sangue vabbè ma qua cazzo ti butti un attimino e ti ho detto comunque prima di questa partita stavo per fare la chem è arrivato a 21 a 21 è arrivato poi c'avevo due cagnolini belli belli ma hanno ammazzato tutti e due io non riuscirei mai a ammazzar cani qua è vaffanculo però c'è Valmania che ma non l'ha mandato no l'ho mandato per un'uccisione che fa veramente ridere sinceramente quel coso la ma mi sta laggando come lagga ma che è il mcdonald è quello? da un po' a sinistra a sinistra ma come faccio a fare l'assist? sinistra? dove? sopra? guarda sopra che cosa? sembrava il mcdonald va bene allora questa mappa ora vi darò lui calcolate che non ci ha mai giocato questo gioco no infatti tipo la quinta partita che si fa in totale me lo farò per la nuova console quando stavo a fare la cam infatti quando stavo facendo la cam e non sapevo più dove andare no tra l'altro uno poi ha mandato la cam si infatti ha fatto oltretutto lui stava per fare la cam l'ha fatta anche con il suo compagno di squadra quindi c'è faccio capire il livello degli avversari vi vorrei far capire quanto non si vede un cazzo quando uno manda la cam occhiocella pezzo de medda pezzo de medda occhio si però non è possibile che cosa? vai dritto qua dentro a sinistra si purtroppo io devo guidare un po' perchè se no non sai mappe vai a sinistra sulle scale ora vado a destra si voi usate questa finestra e poi vai sulle scale a destra ok vado di qua occhio qui che stanno tutti in finestra a destra occhio alle finestre qua a destra occhio in finestra sei un po' attento dappertutto qua perchè stanno sempre qua va bene grazie grazie ora posso anche fare di solito c'è uno all'angoletto là però non c'è qua ok qua c'è qualcuno sotto c'è il satcom vabbè che è rotto occhio soffa ma porca droga ma non è possibile io so cascato in bocca come ovvio che sia registriamo e fa una partita di merda esatto si ma puoi anche morire se vuoi è morto è morto sti giubbottini del merda spiegaci un po' perchè sei mancato tutto questo tempo allora tanto che ho pensato anche di continuare il canale da solo e di farlo fuori sinceramente di uccidermi ho pensato lui e in pratica niente sono un po' picciato mo' perchè ho trovato un lavoretto diciamo e quindi dove devo andare? il radar non lo vedi? che ne è? la gata ecco che cazzo la gata rilda va bene e stavo dicendo stavo dicendo qualcosa che non mi interessava stavo dicendo ah si ho trovato un lavoretto e quindi sto un po' impicciato con i vari cazzi e mazzi del lavoro quindi mi dispiace di non essere così tanto presente veramente mi rincresce questa cosa però mi rincresce? si sto cercando oh di ma che cazzo ma che accoltellamento del merda è? dai suon far serio ma fortunatamente doveva funzionare quello accoltellamento perchè hanno tutti il bagnare loro? eh pia no no ma perchè la devo pia? ma perchè vedi qua? vedi qua non ci devi andare eh dimmelo devi andare tu la strada che ti ho fatto per prima la stessa stessa la stessa stessa qui è disastrata mi aspetti perchè sembra che qualcuno mi spinga da dietro fammi capire comunque questo gioco doveva attenzione c'è l'ind ah loro benissimo ecco come muoio eh ma hai aperto qua sopra eh te vale si ma andate un te pia tranquillo fa schifo l'ind qua la prima mi ha fatto tipo il fenomeno dove cazzo è andato? eh c'è la suezza di scale sh 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 oggi non riesco a parlare sh 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 dove cazzo è andato? per me sta ancora qua infatti si puoi anche morire anche tu sempre seconda posizione uccido io è sempre lui comunque sono sesto è bellissima questa cosa dove posso andare? allora aspetta qua non ci si può andare no qua non c'è niente io mi faccerei in finestra guarda sta qua sta qua affacciate alla finestra moremi dove cazzo stanno? stanno prendendoci eccolo! oh ma che cazzo ma perchè la gente compare così? no ma non ci fa caso so jumper ah capisco no comunque vabbè che non lagga sempre però quando fai laggate fa certi scatti che sono veramente assurdi che cosa è quella cosa che luccica là? è un sat com? che sarebbe un uomo guarda sono tutti qua dentro eccole vai aspetta fammi ricaricare si con calma eh che tanto non muoiono quello allora dove cazzo stanno? a destra ah qua tutti qua dentro tutti no dai non posso falla assist io andrei sopra scale come prima stesso giro io andrei di qua perchè loro stanno stesso giorno stessa merda stessa merda altro giorno in realtà è la targhetta famosa ma su cosa? su modem warfare 2 comunque raga come è stato a vedere io ho fatto il prestigio cioè è veramente un overpower tra l'altro lui sta giocando col mio account ovviamente perchè lui non ha code e tra l'altro mi stavo per uccidere da solo non ha neanche più la playstation ho l'xbox però se vi interessa che è mia esatto quindi è un barbone lui ho comprato un modem warfare 2 cioè gli ho dato 3 giochi della playstation usati vabbè comunque assassin's creed 3 mi pare oh cazzo bladestorm e nartro e nessuno mi frega il cazzo e gli ho dovuto pure da 50 centesimi per modo warfare 2 usato che pulciari mamma mia no che pezzi di merda questo è sempre il gamestop che pulciari che pure i 50 centesimi sono presi eeeh tra il quattro ho pure quella busta bravissimo xenic da oggi andiamo tutti al gamestop basta esatto di gabriele gaiba e vaffanculo che palle che cosa? ma perchè te butti così? ma ho capito non è che se mi butto così moro per forza cioè è abbastanza assurdo che rischi la morte semplicemente buttandoti da una parte dove cazzo stanno? io non vedo niente devi fare sempre lo stesso giro ho capito ma se stanno su c cioè loro hanno conquistato c quindi dovrebbero spawnare qua si non ci interessa ora dove posso andare? dove posso andare? mi dici dove posso andare per favore? eeeh io l'ho detto dove cioè vabbè faccio sempre lo stesso giro anzi no sono trasgressivo passo da qua ah il mecca questi sono i 20 polletti che mi hanno mangiato non mi hanno 20 polletti e neanche uno me ne ha lasciato e ci sia la seconda posizione però non dice che io gli ho lasciato un cheeseburger vabbè perchè ti hanno dato gratis il cheeseburger sono sbagliati l'aveva presi due e gli hanno dato i tre quindi in modo l'ho mangiato io ma perchè ma guarda che cosa perchè fa così perchè la cameriera lì era presa dal mio fascino è vero è vero gli ha lasciato il numero oltre che al cheeseburger in più e quindi ora stanno a organizzare un incisciamento in modo che così io prendo più cheeseburger possibile si si lo prendi vai vai così e olè ottimo va bene va bene ah comunque io mi sono dimenticato di ringraziarvi per ah io vi devo ringraziare per una cosa eh i duemila iscritti eh ringrazio veramente stanno tutti là stanno tutti là oddio chi mi ha ammazzato? ve li ho ammazzati tutti e due fanculo ortar comunque veramente vi ringrazio per i duemila iscritti e darli la già anche se non ha fatto un cazzo no non ho fatto nulla però mi ha veramente commosso questa cosa puoi morire una donna anche tu spari le donne merda sti cazzo lì quando è da bassi non ti vede nessuno mezza verbata ah è tra le tipo i pokemon capace che esce un pikachu selvaggio selvatico selvaggio selvaggio è più bello può morire ok comunque questo gioco diciamo che è abbastanza carino eh mo non so se è l'enfasi delle prime partite hu ha oh no dove cazzo stanno eccolo carca stanno sempre tutti là quante sbagli su sta mappa è così eh tutti al centro tutti al centro ma questo cuore basta fammi capire dove cazzo è andata occhio hai ucciso un difensore ci credo è stata una barriera oh no no tranquillo non mi ha sentito però c'è sta il satcom quindi io vorrei ti abbassare ecco bravo coglione si ma dimmelo che mi devo abbassare giocatona che cazzo ne so c'è da pro manco po' da pro playa perchè oddio questo cortomok ragazzi fermi fermi vediamo tra come affatto cortomok ti ha preso pure drimbarzo ah no no preciso direttore c'è ancora stato come là no non ci sta più dove cazzo stanno tutti vabbè io prima voglio uccidere voglio vendicarmi dove è andata comunque sei un pro playa un pro playa sono un provano sulla playa occhio dietro no dietro non mi va dove stanno tutti qua tutti qua non ci sta nessuno grazie al cazzo non stanno tutti su A ah o e uno questo è quello che tu dicevi prima no non mi va è lui comunque vabbè non fa niente mi mandava oh guarda quanti sono uno guarda quanti sono due guarda quanti sono qui io lo sapevo porca troia lui si sdraia in mezzo alla piazza e pretende che nessuno lo vede lo ammazza facevi pure la rima ma che ti devo suggerire queste cose dove cazzo stanno oh eccolo dove che cazzo ah no oddio ho flisciato oddio qualcosa con il penzolo vedi eh si è la pianta sembrava un uomo però in effetti si dove stai dietro ma è stupida gente comunque no 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 non è possibile ah ah oh oh no ho preso presa male avevo perso però lui ha ammazzato finalmente quello il suo Moby Dick l'ha ammazzato esatto ragazzi la partita è finita è stato un piacere qui tornare si mancava il battito di mani è stato un piacere tornare qui con voi e da Xenic è tutto da dare il no perché tanto l'avamo sentito troppo tempo questi giorni bella 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 Grazie a tutti!